Né il bacio, Francesco Hayez inserisce alcuni dei temi tipici del romanticismo italiano, quali ad esempio il recupero del Medioevo, con soggetti che richiamino all'attualità. La scena qui è ambientata in un castello del XIV secolo, ma molti critici affermano che i colori degli abiti dei due protagonisti, rosso-verde e blu, richiamino le bandiere italiane e francese. Il risorgimento italiano venne infatti sostenuto dalla Francia. Un altro tema è la superiorità del sentimento sulla razionalità. L'uomo ha il ginocchio piegato come per salire le scale e presumibilmente andare a combattere un nemico incombente, tuttavia si è tardi a baciare l'amata, vinto dalla passione. E ancora l'affermazione della libertà individuale. La donna è protagonista del bacio tanto quanto l'uomo, elemento che all'epoca rese questo quadro tanto scandaloso quanto popolare. Tuttavia i veri romantici sanno che i due protagonisti sono Paolo e Francesca, sorpresi nell'attimo in cui leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia di viso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. La scena non ci trasmette gioia, ma tensione e pericolo. Nonostante, catturati dai due giovani, non sia facile accorgersi dell'ombra minacciosa di un uomo che si avvicina. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi vita ci spense. Il bacio ebbe un immediato successo, tanto che Gerola Minduno, pittore e patriota, nel suo triste presentimento del 1862 anche lui a Brera, ne inserisce una riproduzione a stampa proprio sopra il busto di Garibaldi, un po' come oggi fanno i giovani con i poster dei cantanti pop. Grazie.